Amici di Euromusica, è per me un piacere immenso dare il benvenuto a un artista, un'antautrice che non ha bisogno di presentazioni, ha spopolato lo scorso anno con il suo album di debutto post nostalgia e adesso è uscito pochi giorni fa il suo ultimo singolo, ma 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 ce lo racconta proprio lei, siamo accompagnati a Mamifaro. Ciao Angeli, a benvenuta. Grazie mille, grazie di avermi qua. Allora, naturalmente la prima domanda mi sorge spontanea, visto che è uscito l'altro giorno il tuo ultimo singolo, raccontacelo un po', presentaci un po' questo ma ma ma, è molto particolare tra l'altro. Sì, il titolo soprattutto, diciamo che è un pezzo sicuramente un po' nuovo a livello di sound rispetto a quello che ho fatto prima, ma è un po' più panchettino, diciamo così, pop-punk, anche perché parla di un tema, insomma non è proprio una canzone d'amore, o meglio sì, ma c'è tutta una storia che mi sono fatta dietro sul significato un po' di questo pezzo. Io tendo, mi piace scrivere in maniera molto cinematografica, quindi a volte parlo delle cose mie, delle mie storie e a volte mi piace invece farmi un po' dei viaggi, no? E questo è uno di quelli, cioè nel senso che mi piaceva partire un po' da questo mito che tutti i musicisti hanno del Club 27, no? Di queste persone che decidono di, che noi idolatriamo molto in quanto musicisti, abbiamo sempre questo mito qua, di loro che decidono di bruciare in una colata piuttosto che spegnersi come le altre persone. E se ne è parlato anche tanto in musica, ci sono tante canzoni che ne parlano. E io in questa canzone volevo fare un po' l'opposto, cioè parlare dal punto di vista di quelli che rimangono. E che quindi si ritrovano, insomma, in un certo senso soli al mondo a dover sistemare i casini di questi che facevano tanti figli dei fiori e poi alla fine, però, mi hanno lasciati da soli. Quindi poi era un po' questo viaggio qua. Insomma, hai detto che nei tuoi brani in genere tendi a inserire molto, un po' di, insomma, sei molto autobiografica, in altri invece preferisci andare a romanzare, per così dire. Ma questa idea come ti è arrivata? Allora, in realtà era nata da una cosa che mi aveva raccontato il mio tarlista. Che era questa cosa del campanello. Sua nonna è morta da tanti anni e lui però spesso passa sotto questo palazzo e c'è ancora il campanello con scritto il nome di sua nonna. E quindi siamo partiti da quel punto lì e poi si è sviluppata tutta questa questione che ti ho appena raccontata, quella diciamo che è stata l'idea che ha fatto partire tutto. Parlando invece di te come artista, diciamo, ormai, diciamo, il tuo nome è noto. Ti abbiamo vista lo scorso anno, la scorsa estate, al Team Summer Eats, sul palco insieme ai Rovere, a presentare Sott'acqua. Ma i tuoi genitori o me l'hanno presa questa tua scelta di fare un lavoro totalmente diverso da loro e buttarti, insomma, sulla musica, sul tanto autorato? Ma come tutti i genitori, alla fine, ovviamente con un po' di titubanza perché la musica è un lavoro molto incerto e altalenante, sicuramente non un lavoro sicuro da quel punto di vista per il quale ci vuole tanta passione, tanto impegno e anche un po' di fortuna. Ci sono tante variabili, diciamo, nel mondo della musica e quindi, come tutti i genitori, ovviamente un po' di preoccupazione all'inizio c'è, ma sono i miei primi supporter, ovviamente. Mi supportano molto in quello che possono, sì, sì. Hai un rapporto molto particolare con i tuoi fan, con i tuoi sostenitori, infatti c'è un gruppo Teleram dedicato a una sorta di community di tuoi supporter, di tuoi fan, ma come è nata quest'idea? Ma allora, in realtà è nata da questa ragazza, che si chiama Emma, che ha creato una fanpage su di me. Lei, tra l'altro, è una ragazza che poi ho conosciuto molto bene nel tempo. E non lo so, mi piace l'idea di trattare un po' i miei fan come se fossero dei miei amici, cioè delle persone con cui ho delle cose da condividere, che ogni tanto la mattina, boh, mando un mio selfie, faccio bella raga, cosa fate oggi? Cioè, si chiacchiera molto, mi piace che ci sia un rapporto di quel genere, che io non sia l'artista che vedi sul palco e che ti sembra lontanissima Eliena, cioè sono uguale a tutte le persone che mi ascoltano, e anzi, trovo spesso che ci siano delle similitudini, no? Cioè, le persone che mi ascoltano sono persone che potrebbero essere mie amiche nella vita di tutti i giorni, perché abbiamo tante cose in comune, e quindi mi piace anche coltivare questo tipo di rapporto, specialmente nella dimensione che ho adesso, che è giusta per poter portare avanti un rapporto di questo tipo. Ecco, quindi finché ce l'ho, me la godo. Facciamo un salto indietro nel tempo, il tuo primo singolo si intitolava Pasta Rossa, e vantava la produzione dei Rikardo Zanotti, quindi tattici nucleari. Questo è stata una sorta di spinta, letteralmente, e ti ha attapultata nel mondo della musica indie. Sì, sì, sicuramente Riccardo ha giocato un ruolo fondamentale, sia da un punto di vista musicale, perché comunque mi ha insegnato tanto di come si sta in studio. Io, quando ho cominciato a lavorare con lui, venivo da una dimensione non professionale, e quindi mi ha insegnato tanti trucchetti da lui, c'è sempre tanto da imparare. Sia invece dal lato umano, perché poi siamo diventati molto amici, ed è sempre una persona che mi può dare degli spunti, un suo punto di vista. Anche adesso che comunque non lavoriamo insieme ad ogni pezzo, cioè mi ha lavorato ad alcuni dei primi, poi giustamente ognuno fa le proprie cose, ma è sempre la prima persona a cui mando i pezzi quando li ho finiti, perché so che mi fido molto del suo parere. Quindi sicuramente è ancora un bel punto di riferimento in quel senso. L'altro giorno stavo guardando un po' di roba, e hai rivisto una tua intervista da Serena Bortone, oggi un altro giorno, una roba di un po' di tempo fa. Ma cosa è cambiato da quell'intervista a oggi? Insomma, quanto è cresciuta l'Angeli rispetto a quell'intervista di qualche anno fa, al giorno d'oggi, dopo l'uscita del tuo ultimo singolo? Ma io credo che in generale a quest'età si cambi davvero di giorno in giorno. Cioè io mi sento ogni tanto, mi sveglio e dico boh sono una persona diversa da quella che era una settimana fa, quindi immagina in due anni questa cosa quanto possa cambiare. Diciamo che dal punto di vista professionale della musica ho sicuramente più consapevolezza, spero di essere più brava, questo è sempre quello che io mi metto come obiettivo, quello di non sentirmi mai arrivata nella musica, c'è tanto da imparare, ho ancora molto da migliorarmi nella scrittura, negli arrangiamenti dal punto di vista musicale proprio. E quindi questo è quello che ho fatto in questi due anni e che continuo a fare, cioè quello di studiare, di diventare un po' più brava ogni giorno. E quindi spero di essere un po' più brava di due anni fa, quello sì. Mentre invece per il resto poi, da un punto di vista di attitudine, penso di essere rimasta molto simile. Veni da una città che ha dato molto alla musica Bergamo e insomma, oltre all'anzone di più unità Ticinoliari, loro sono di quelle parti, è una città che ha dato in Natale a molti musicisti. Poi ti sei spostata nel Regno Unito, è un'altra terra in cui la musica è fortissima, basti pensare all'evento e si svolge in questi giorni, l'Eurovision Song Contest, e sarà proprio a Liverpool tra l'altro. Insomma, possiamo dire che la tua vita ha avuto tanta musica sin dai luoghi in cui hai vissuto? Sì, sicuramente. Un po' dei luoghi in cui ho vissuto, che come hai detto, mi sono stati di grande ispirazione sia dalle persone di cui mi sono circondata e quello anche è stata una grande fortuna per me, il fatto comunque di avere delle persone attorno, sono dei familiari, ero sempre circondata dalla musica, mia sorella canta, suoniamo più o meno tutti, e quindi sono sempre stata immersa in una dimensione di musica che mi ha ispirato molto. È uno dei motivi per cui ho deciso io di cominciare a suonare, il fatto che mi piaceva molto la sensazione che si creava quando una persona tira fuori una chitarra ad una cena o ad un pranzo, cioè proprio quella dimensione di convivialità, perché la musica poi è questo, è condivisione, la musica funziona quando c'è la gente che la canta, è quello il momento in cui la musica secondo me tira fuori il vero potenziale, finché te la canti in cameretta è come se gli mancasse quell'ultimo step, quando invece c'è la gente che la canta è arrivata, è arrivata all'apice, e quindi quello è quello che mi ha spinto a dire ma anch'io voglio, cioè anch'io voglio suonare la chitarra e far cantare la gente e quindi ho cominciato a farlo. Guarda, hai detto una cosa bellissima, quindi la tua dimensione preferita è quella del live, quella in cui sei in mezzo alla gente, in mezzo a un pubblico che canta e batte le mani a tempo e no, ti accompagna con i cori sulle tue canzoni. Assolutamente sì, cioè sicuramente la cosa che mi piace più di questo lavoro è fare i live, proprio il mio posto, cioè mi piace stare lì a far cantare, a far cacciare, a ballare, mi piace tanto. Senti, ma adesso è uscito il tuo ultimo singolo e ricordiamo frutto anche del lavoro da parte di Iri Label, che è un'etichetta che sta dando moltissimo spazio ad artisti giovani, emergenti e anche lì diciamo c'è per certi versi lo zampino di Riccardo e diciamo ha contribuito alla nascita di questa realtà, ma se volessimo andare a vedere un attimo proprio nel mondo della musica, tu in quale dimensione ti andresti a collocare? E' una domanda un po' difficile, quindi... Se parliamo di genere, sicuramente quello che si andrebbe a definire come indie, pop, quello che è, insomma, secondo me poi è relativo andare a schematizzare troppo questi generi, perché viviamo in un tempo musicale in cui invece i generi si contaminano moltissima vicenda ed è questo che rende, secondo me, alcune canzoni particolarmente speciali, il fatto di avere influenze che arrivano dalla trap, dal rap, dal funk, dall'R&B, dal soul, cioè c'è un bel mischione, secondo me invece questa cosa è di grande valore. Quindi sì, ovviamente faccio della musica che è prettamente indie, ma mi piace anche molto ascoltare altro. Sono grandissima fan di Da Supreme, se mi dicessi qual è il feat che vuoi fare adesso, boh, Da Supreme, c'è a zecca qualcosa con me? No, mi piace moltissimo. E quindi non sto troppo a pensare a dove collocarmi, mi piace invece pensare che sia un mondo un po' più libero quello dove stiamo vivendo adesso a livello musicale. Eh, poi tu, questa tua musica è anche, l'hai detto proprio adesso, sinonimo di, per certi versi, libertà, ma in senso è abbastanza lato, vuoi illuminare il pubblico, illuminare non l'ho detto a caso, e quando hai presentato il tuo nome d'arte, diciamo, hai usato, hai giocato proprio sul significato della luce, no? Sì, più che io illuminare le persone che effettivamente a qualcosa di un po' ego riferito, è più quanto la luce, cioè, è più quanto la musica è stata un po' una luce per me, cioè, che è sempre stata quella cosa a cui mi sono appigliata, che sotto sotto sapevo che mi avrebbe portata avanti, quindi forse più quello, c'è un senso che per me la musica è sempre stata una cosa a cui sono rimasta stretta, perché è come se mi stesse portando in un certo senso sulla strada giusta. vediamo se è quella giusta, però non sta andando bene. E naturalmente ti auguro e vada ancora meglio da qui in avanti, perché la tua musica merita veramente di essere ascoltata da quante più persone possibili. Giusto per concludere, cosa possiamo aspettarci in futuro dopo questo tuo nuovo singolo? Beh, sicuramente c'è tanta altra musica pronta e che stiamo chiudendo, diciamo, in studio, quindi c'è sicuramente qualche altro singolo che arriverà quest'estate e poi stiamo finendo l'album. Quindi ci sarà un secondo album in autunno, in inverno, chi lo sa, però comunque è l'anno prossimo. Grazie mille, veramente. Andate tutti quanti ad ascoltare Yamami Faro, Mamma Mai su Ultimo Singolo, lo trovate su tutti i digital store e entrate in gruppo Telegram perché io devo ancora parlare, entrerò subito dopo appena chiudiamo questa chiamata perché non voglio perdermi nulla. Devo assolutamente entrare e entrate anche voi e ci leggete. Grazie mille. Grazie a te, è stato un piacere.